Sono felice di ospitare a Dagorad, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, bentornato. Partiamo inevitabilmente dalla situazione in Ucraina, che è sempre più drammatica, con attacchi russi sempre più feroci, vittime civili. Ieri è stato ucciso anche un giornalista americano. C'è ancora spazio, secondo lei, per una soluzione diplomatica che fermi Putin? Beh, innanzitutto sottolineiamo questo grande impegno dei giornalisti e di tutte le troupe che sono lì delle varie testate per cercare di restituire un'informazione quanto più possibile puntuale e corretta. E quindi, da questo punto di vista, questo va sottolineato, vanno tutti ringraziati. E in particolare poi c'è questo giornalista che è rimasto vittima di questo attacco. Per quanto riguarda la soluzione diplomatica, noi non possiamo mai perdere di vista che quello è l'orizzonte finale verso cui dobbiamo indirizzarci e dobbiamo far di tutto a tutti i livelli, tutta la comunità internazionale, coinvolgendo anche player che possono recitare un ruolo molto importante come la Cina, perché tutto questo processo che attualmente è contraddistinto dal forte rumore dei bombardamenti, invece, si indirizza a una soluzione politica che significa cessazione immediata delle ostilità, ritiro delle truppe, ripresa dei negoziati e stabilizzazione complessiva dell'area. Quindi, anche attraverso un mediatore terzo, il problema è che siamo al diciannovesimo giorno di guerra e questi spazi, spiragli, sembrano sempre ridursi, anche se oggi ci sarà un quarto round di negoziati, appunto, dobbiamo incrociare le dita. Lei scendendo in piazza sabato alla manifestazione in solidarietà alla popolazione ucraina, ha poi scritto sui social non si può dire no alla guerra e voltare le spalle, è troppo semplice, bisogna essere accanto a chi soffre. Quindi, noi italiani cosa dobbiamo e cosa non dobbiamo fare? È giusto inviare armi e le sanzioni vanno bene così o andrebbero inasprite? Guardi, per il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle da subito ha definito una linea, che è quella del pieno sostegno finanziario, economico e anche umanitario alla popolazione ucraina. Abbiamo anche aggiunto, e non ci siamo sottratti, a quel passaggio che ha visto anche un sostegno in termini di aiuti militari. Perché è chiaro che ricordano tutti i presupposti perché il popolo ucraino possa difendere il diritto a mantenere la propria terra, le proprie istituzioni, il proprio esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione. Siamo nel quadro di una legittima difesa e dire che esiste una legittima difesa, mantenendosi assolutamente indifferenti, volgendo le spalle dall'altra parte, non ha molto senso. Per noi quella degli aiuti militari, lo dico molto chiaramente, l'ho già detto e lo ripeto, è stata una decisione sofferta, perché nella nostra Carta dei Principe dei Valori c'è un paragrafo bellissimo dedicato alla pace, come stella polare orientativa dell'azione politica e obiettivo finale che deve orientare qualsiasi relazione tra Stato, tra Stati e Stati. Però è chiaro che in questo contesto vanno assunte anche delle responsabilità conseguenti. E anche le sanzioni vanno bene così, sono efficaci o rischiano di inasprire la reazione di Putin? Le ha già ridette, sono illegittime, colpirà i paesi? No, no, non credo affatto che la decisione di assumere da subito sanzioni, infliggere sanzioni pesanti, con pesanti ricadute per quanto riguarda l'economia russa, e anche conseguenze per noi ovviamente, perché siamo in un'economia globale integrata, credo che sia la decisione giusta, non inaspriscono, credo, il conflitto, perché il conflitto era già di per sé inasprito, è stata un'aggressione militare evidentemente ben costruita, ben disegnata, con una finalità ben strategica, anzi al contrario, credo che sanzioni così aspre, in Russia neppure Putin se le aspettasse, e chiaramente stanno creando tanti problemi, e speriamo che possano anzi essere uno stimolo positivo per la definizione di un negoziato. Diciamo che, lo diceva lei, stiamo anche noi come Occidente, come Italia, pagando un po' le conseguenze, una guerra che rischia di provocare una nuova crisi economica, a partire dal carro di energia, Movimento 5 Stelle è contrario al nucleare, al ritorno al carbone, lei ha parlato di un Energy Recovery Fund, ma nell'immediato come possiamo aiutare famiglie, imprese e allo stesso tempo ridurre la nostra dipendenza dal gas russo? Guardi, nell'immediato la riduzione del gas russo non è ovviamente un obiettivo a portata di mano domani mattina, però è chiaro che dobbiamo adesso, come già sta facendo il governo con il ministro degli esteri, dobbiamo lavorare per cercare fornitori alternativi, lo abbiamo già fatto in parte, dobbiamo assolutamente Algeria, tutti quanti, Egitto, la Libia è un scenario più complesso e così via tutti gli altri, dobbiamo cercare dei fornitori alternativi per tagliare il gas russo, come prima cosa. Poi per contenere il caro bolletto ci sono vari strumenti, il governo ci sta lavorando e noi stiamo dando un contributo molto importante, determinante direi, cioè abbiamo la possibilità ad esempio di prelevare dagli extra proventi che abbiamo ottenuto dalle gare per CO2, abbiamo la possibilità di intervenire sugli extra profitti che le società dell'energia hanno in questo periodo accumulato, abbiamo la possibilità di ridefinire anche le accise che comunque incidono diciamo su questo caro benzina, caro gasolio, abbiamo anche altre possibilità, ci sono dei settori di attività, dei comparti che in periodi, in due anni di pandemia, hanno accumulato dei profitti che non sono commisurati alle prestazioni erogate. Lancio qui un'idea senza voler male a nessuno, però ad esempio nel comparto assicurativo durante i due anni di pandemia, la copertura assicurativa, voglio dire, ha giovato in alcuni settori molto più alle imprese assicurative rispetto agli assicurati. Ecco, dei contributi in solidarietà si possono costruire sostenibili che non, voglio dire, compromettano le logiche di mercato, però si può intervenire. Anche perché alcuni aumenti, dopo ne parleremo di caro carburante, come ha detto il ministro Cingolani, sono dettati da speculazione, quindi magari su quello si può riferire. Anche io concordo, ci sono alcune speculazioni perché non si giustificano, non sono strettamente e puntualmente corrispondenti a quella che è la crisi attuale. Quindi ci sono delle speculazioni in atto. Allora, politica interna inevitabilmente. Sabato è stato a pranzo con il segretario Letta. In vista delle prossime amministrative e delle politiche del 2023, la prospettiva per voi resta? La strada sempre quella del campo largo del centro-sinistra? Strada spianato? Qualche ostacolino? Io l'ho già dichiarato, non me lo faccia ridichiarare. Cioè questo campo largo, io parlo di campo progressista, dove ci sono delle forze che hanno chiarezza di visione e avendo chiarezza di intenti, di visione e anche coerenza di azione politica, possono poi dialogare. Però se poi parliamo di un campo largo dove ci sono tanti personalismi, tanti gruppi, tante forze politiche, ovviamente che si guardano, si rimirano allo specchio e pensano, voglio dire... Tanto il nome non me lo fa. Ma non glielo faccio no perché non ha senso far nomi, però mi sembra di essere stato molto chiaro. Molto chiaro, molto esplicito. Senta, per quanto vi riguarda il voto di venerdì, ha confermato lo Statuto del Movimento 5 Stelle, la sua leadership, quindi problemi giuridici sollevati dal Tribunale di Napoli, definitivamente superati e anche all'interno piena compattezza. Però mi permetta di chiarire anche, perché poi capisco che queste vicende possono appassionare, noi abbiamo ripetuto la votazione dello Statuto in modo, come dire, da sanare, da evitare di star lì dopo un provvedimento cautelare, una sentenza di merito, una sentenza di appello e via discorrendo. Abbiamo ritenuto che richiamare al voto i nostri iscritti fosse la soluzione politicamente ma anche giuridicamente più sicura, certa, chiara, trasparente per superare chi ovviamente pensa che la vita e l'azione dei partiti politici e dei movimenti politici debba essere decisa con ricorso in Tribunale. Noi la pensavo completamente in modo diverso. Ora però, lei ha parlato della mia leadership, la mia leadership adesso dovrà essere sottoposta di nuovo a una votazione. Quindi quella era la ripetizione dello Statuto e adesso si preannuncia anche... Però risolti i problemi giuridici, superati anche eventuali problemi politici di compattezza interna, non esce comunque rinsaldata perché lei ha detto che il Movimento 5 Stelle non ha correnti e non deve averne. È fiducioso che sarà così. Guarda, io abbiamo una particolarità che altre forze politiche non hanno. I nostri iscritti sono chiamati costantemente, continuatamente a esprimere un voto. Anche un iscritto è un'iscrizione gratuita. Va lì e si esprime. Esprime se vuole o no Conte, esprime se vuole o no Tizio, Caio, Semploni, i vari organi politici. I passaggi di vita addirittura i nostri iscritti hanno votato anche per la formazione dei governi che ci sono succeduti. Quindi è una grandissima possibilità che viene offerta a tutti di democrazia diretta e partecipata. Questo giustifica il fatto che le correnti con organizzazioni precostituite del consenso, tessere varie, signori delle tese, noi quella roba lì non la vogliamo. Chiaro e ringrazio molto il Presidente del Movimento 5 Stelle. Adesso noi andiamo invece all'altra nota dolente. Come dicevo, il caro carburante per gli italiani in questo momento e partiamo innanzitutto dal racconto nelle stazioni di servizio dei nostri Laura Rizzo e De Ambuletti. Buona giornata, grazie.